Vogliamo rivolgere un messaggio di sensibilizzazione a titolari e gestori di esercizi commerciali affinché si facciano promotori nel sensibilizzare gli avventori al rispetto della normativa inerente alla prevenzione del contagio da Covid-19 e affinché per primi rispettino il titolo autorizzativo della loro attività ed evitino di predisporre delle sale da ballo in assenza della prevista licenza.